Silvana Arbia, sono del Collegio Sud e sono qui per fare in modo che l'Europa nei prossimi 5 anni attui interamente il Trattato di Lisbona che mette al centro la dignità della persona con i suoi diritti e permette alle persone di avere uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Il mio impegno è rivolto in particolare alla lotta contro la criminalità, alla corruzione e si sa che oggi 120 milioni di euro sono spesi per la corruzione, quasi il bilancio della Unione Europea, questa deve essere una priorità.